Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Roma, Adriano Meloni, assessore al turismo del Comune, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. L'immancabile Tar del Lazio annulla l'ordinanza con la quale Virginia Raggi aveva fatto sì che i centurioni e i riscio se ne andassero da davanti al Colosseo o complessivamente, diciamo così, nel centro di Roma. Parla il Tar del Lazio, tra l'altro, di un'attività, quella dei centurioni che si fanno fare le foto con i turisti, perfettamente lecita, aggiungiamo noi, lecita finché non avvengono le molestie alle turiste che sono state ampiamente documentate, il taglieggiamento per la foto e quella specie di souk davanti a quello che è uno dei simboli del nostro paese, forse il più famoso. Meloni, il Tar ha detto però anche questo, dice finito il giubileo non c'è più l'emergenza e il Comune ha il dovere di intervenire con un regolamento più preciso di questa attività. Che cosa intendete fare? Sì, innanzitutto non ha cancellato l'ordinanza, ha semplicemente accordato la sospensiva in attesa del giudizio di merito che avverrà a dicembre. Sì, Meloni lei ha ragione, mi scusi, però dall'altra parte io aggiungo, l'udienza di merito è fissata per il 6 di dicembre, nel frattempo c'è tutta la stagione turistica romana. Quello è il problema, esattamente, ha centrato il problema in pieno. Questo ovviamente noi stiamo per regolamentarlo, era predisposto il regolamento della polizia locale che vieterà questo tipo di attività. Purtroppo, o per fortuna, il decreto Minniti è intervenuto e stiamo adeguando il regolamento della polizia locale in base alle prescrizioni del decreto Minniti. Purtroppo, perché lei non è d'accordo politicamente del Movimento 5 Stelle, ma per fortuna, perché in realtà vi viene in aiuto, mi sembra di aver capito. No, 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 è lodevole quello che stipula nel suo decreto che ci viene in aiuto, da più poteri al sindaco, quindi diciamo che è positiva la cosa. Dobbiamo semplicemente adeguare quello che era già stato stilato come regolamento della polizia locale a questo decreto Minniti. Quindi semplicemente dei tempi un po' più lunghi. Purtroppo è intervenuta questa sostituzione da parte del D.A.R. che, come giustamente ha sottolineato lei, permette a questi signori di ritornare ad importunare turisti in giro per la città davanti al monumento più famoso del paese. Entro che tempi considerate di divarare un regolamento definitivo per questa cosa? Allora, il regolamento prevede varie tappe per cui penso che il comandante Porta l'ha rastirato nell'arco di qualche giorno, però deve anche passare in consiglio comunale che è unito da un po' più lungo. Nel mentre, quindi in questa finestra che si apre e permetterebbe a questi personaggi di tornare ad operare, ho mandato al comandante di emanare un'altra ordinanza a firma del sindaco con delle motivazioni magari anche diverse rispetto a quello che potrebbero essere legate al giubileo per far sì che non tornassero. Quindi questo è quello su cui stiamo lavorando in questi momenti. Quindi dovrebbe arrivare a breve una nuova ordinanza in sostanza? Esattamente. A breve una nuova ordinanza per fermare, per tamponare l'emergenza e poi entro breve immagino un provvedimento definitivo che poi avrà quell'iter che lei ci avrà raccontato, che ci ha raccontato. La ringrazio, grazie a Adriano Meloni, assessore al turismo del Comune di Roma perché ci ha dato anche qualche chiarezza sui tempi e la, come dire, non dico la certezza ma un'idea del fatto che quel suc possa non tornare là davanti. Adesso ci fermiamo.